Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione per il tema di Divi chiamata Divi Gallery Extended. Nei video precedenti, che trovo in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per WordPress, appunto Divi. Siamo andati quindi a visitare il suo sito per conoscere le sue funzionalità, quanto costa, come ottenere supporto. Abbiamo poi provato live i page builder di Divi per andare quindi a capire di fatto come costruiremo le pagine poi del nostro sito, quindi in maniera molto pratica. Abbiamo poi visitato quella che è la vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo con pochi semplici clic importare un singolo layout e utilizzarlo come template per una o più pagine del nostro sito. Oppure ancora siamo andati invece, abbiamo l'opportunità anzi di importare invece un pacchetto di layout, quindi non più uno solo, e avere con un pacchetto quello che si può definire un sito chiave in mano. Successivamente ancora ci siamo spostati invece su quello che è il marketplace di Divi, ovvero tutti quegli autori di terze parti, parliamo di aziende o professionisti, che hanno deciso di sviluppare prodotti che gravitano tutti quanti intorno a Divi. Nello specifico stiamo parlando di temi child, ne abbiamo visti diversi, oppure estensioni come vedremo quella di oggi, Divi e Gallery Extended. Quindi direi a questo punto di non perdere altro tempo e andare a visionare questa estensione per Divi. Direttamente dalla home page del tema Divi andiamo su quello che è il marketplace e sulle estensioni. Comunque troverai poi il link qua sotto in descrizione. Andiamo a vedere Divi Gallery Extended, come abbiamo già detto poco fa. Questa estensione, iniziamo subito col dire che ha un costo di 19 dollari. Come abbiamo già visto, sia per le estensioni che per quanto riguarda i temi child, non abbiamo limiti di utilizzo per questi prodotti. Possiamo quindi installarli su quanti siti vogliamo, non abbiamo limiti di licenze. Compreso nel prezzo, inoltre, abbiamo anche un anno di supporto e aggiornamenti. Direi che questa estensione non ha bisogno di grosse presentazioni. Ovviamente, come si può intuire, tratta in particolar modo quelle che sono le gallerie d'immagini. Andiamo quindi a vedere quali sono le funzionalità che vengono messe a disposizione per la creazione di gallerie. Abbiamo due moduli differenti di Gallerie Masory, che vedremo tra poco. Abbiamo la possibilità di filtrare le nostre gallerie con le categorie, quindi possiamo creare categorie e filtrare per queste categorie appunto le nostre immagini. Abbiamo la possibilità di mostrare inoltre il Lightbox, quindi diciamo lo zoom dell'immagine, con uno slider, quindi come potete vedere possiamo andare avanti nelle immagini successive, grazie allo slideshow delle immagini che abbiamo. Inoltre, possiamo anche mandare gli utenti a una specifica pagina, quindi non solo il link può essere un Lightbox, come abbiamo appena visto, ma può anche essere un link ad una pagina per esempio esterna o interna del sito, quindi a un dettaglio di quello che potrebbe essere questa galleria di immagini. Qua come potete vedere sono tutti i link esterni. Abbiamo anche diverse appunto opzioni per poter personalizzare le nostre gallerie, le vedremo tra poco, possiamo, come possiamo vedere qui da questa piccola anteprima, aumentare o ridurre a zero lo spazio tra le colonne, tra un'immagine e l'altra, quindi abbiamo qui un esempio, come potete vedere, dove lo spazio è a zero, qua dove abbiamo uno spazio di qualche pixel tra una colonna e l'altra. Ovviamente il tutto è stato pensato per garantire anche un ottimo risultato sia su desktop ma anche su device appunto portatili, quindi stiamo parlando ovviamente del responsive, per cui abbiamo la possibilità di controllare e appunto utilizzare le colonne anche sui dispositivi mobili e quindi disporle in modo come noi, diciamo, preferiamo, in modo che si veda bene sui dispositivi mobili. Inoltre se le gallerie sono piuttosto piene, se abbiamo tante foto da dover mostrare, ecco che questo add-on ci viene anche in aiuto con il pagination. Abbiamo un bellissimo pagination che tra l'altro non richiede, come potete vedere, il refresh della pagina, quindi il noioso refresh della pagina, ma abbiamo già tutte le immagini pronte e possiamo quindi appunto avere anche a disposizione quello che è il nostro pagination, quindi per gallerie diciamo numerose possiamo anche adottare questa soluzione. arriviamo a quelli che sono gli esempi delle gallerie Masory, quindi qua abbiamo un primo esempio, come potete vedere abbiamo una spaziatura tra un'immagine e l'altra, abbiamo sempre l'effetto lightbox con lo slideshow, quindi ci possiamo spostare su quelle che sono le immagini successive, questa nello specifico è divisa in quattro colonne, abbiamo anche qui il pagination, come si può vedere, quindi andiamo a vedere la seconda pagina, mentre invece questa è la prima pagina, andiamo a vedere un altro esempio, in questo altro esempio invece abbiamo eliminato quello che è lo spazio come avevamo visto poco fa tra una foto e l'altra, tra una foto e l'altra, quindi qua non abbiamo di fatto spazi tra foto e colonne, l'effetto è sempre lo stesso, quindi abbiamo in questo caso sempre l'effetto lightbox, possiamo anche mettere link a nostro piacimento su alcune immagini, abbiamo poi un'altra versione dove come potete vedere qui addirittura invece le immagini sembrano all'interno di cornici, abbiamo un po' di effetti anche di profondità, abbiamo le categorie anche qua per il quale possiamo di nuovo filtrare senza avere di nuovo il caricamento noioso della pagina e comunque abbiamo appunto questo risultato, quindi qua abbiamo sia la spaziatura tra colonne e tra immagini e anche questo bordo che dà questo effetto di cornici e di profondità come se fosse una vera cornice. Abbiamo poi un altro esempio ancora, qua come potete vedere invece abbiamo oltre alla spaziatura tra colonne ed immagini abbiamo anche le immagini stondate ai bordi, quindi agli angoli, quindi agli angoli abbiamo queste appunto questo effetto con queste immagini stondate, questa regola vale per tutta l'intera galleria. Abbiamo ancora un'altra versione, qua invece in questa versione di galleria abbiamo la possibilità di inserire anche un piccolo caption, un testo al di sotto dell'immagine, quindi come potete vedere sotto ogni immagine ha un piccolo testo. Cliccando naturalmente abbiamo sempre il solito effetto slideshow come abbiamo anche già visto in precedenza. Quindi abbiamo visto un po' tutte le funzionalità che ci può fornire questo add-on, abbiamo visto come è possibile creare davvero gallerie molto molto belle, molto molto efficaci, possiamo utilizzarle per mostrare gallerie d'immagini, ma abbiamo visto che possiamo anche inserire dei link, quindi possiamo anche usarle come gallerie per magari, non so, mostrare prodotti o categorie, o vogliamo usarle come per mostrare i nostri progetti, i nostri lavori effettuati, quindi per creare anche un portfolio. D'accordo? Può essere utilizzato davvero davvero per i più svariati, per le più svariate necessità. Direi che è un'ottima estensione, un'ottimo plugin, ha un costo anche veramente irrisorio, abbiamo visto 19 dollari, quello che quindi ti resta diciamo da fare, da capire è se questo add-on può fare al caso tuo o di un tuo cliente, perché ricordati che hai sempre i limitati utilizzi, quindi puoi acquistarlo e utilizzarlo per te e per i tuoi clienti, e quindi valutare se questa galleria, questo add-on può fare al caso tuo o di un tuo cliente e eventualmente quindi valutare l'acquisto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamolo scritto qua sotto nei commenti, in modo tale che io magari possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo wordpress, e-commerce, temi, plugin, divi o elemento, espulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamolo anche questo scritto qua sotto, così che magari io possa trovare qualche nuovo spunto, o qualche altra nuova idea, per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto, e seguimi nei prossimi video. Ciao!